e eccoci qui ben ritrovati tutti assieme allegramente appassionatamente per cantare questa bellissima canzone assieme a loro un gruppo molto particolare e andiamo a conoscerli allora partendo da lui quello che si è dichiarato il rappresentante ufficiale ormai vai come ti chiami lei lei è con voi no ok perfetto c'era anche un infiltrato allora scusami tonino ci ho persi la presentazione al tonino spiega un po torino tu cosa fai no come perfetto è una spia del kgb ma noi non ve l'abbiamo detto al suo fianco troviamo matteo perfetto matteo è tanto che conosci tonino ci dispiace ci dispiace capita purtroppo nella vita di fare certe conoscenze poi non riesci più a scrostarlo dai scherzo che ci volete bene tutti allora qui il gruppo di ragazze c'è anche un ragazzo in mezzo che sta zitto ma è felicissimo allora presentiamo tutti a carrellata vai come ti chiami di dove sei di colate il termine nicolà bello sono andato un paio di volte bellissimo barina di dove sei valeggio sul micio bello bello anche quello di dove sei la peschiera ecco non lo conosco fa cagare no dai scherzo bellissima che la peschiera lui invece di dove sei castel nuovo ecco quello non lo conosco davvero poi maria grazie dove sei il nuovo ecco che siete vi conoscevate già prima siete troppo amici amici conoscenti a e dall'asilo spero non troppo amici dall'asilo perché sennò ma ce l'avete fatto un sacco lei invece con questo taglio super fashion shocking alternativo now is wow giustamente doveva avere un nome calibrato al look e lei jessica di dove sei aspetta torno indietro un attimo e perfetto volta mantovano abbiamo un ex moroso ma il paese mi piace allora cmq cmq stavamo dicendo allora termine nicolà perché questa cosa qua mi fa ridere face il lavoro più scemo del mondo io l'ho visto alle termine nicolà quelli con la torcia che devo venire a scamarti se vuoi ciulare in acqua il torciaio antisesso li ho chiamati io che lavoro fai il torciaio anti ciulata no ma bravo eh spacca i coglioni i giovani d'oggi cioè mica abbastanza difficile nella vita uno ha pagato 40 euro per entrare a fargli fare mezza canellana c'è che te frega no l'acqua a torcia a scamarti va bene comunque detto questo che è stato molto divertente avete deciso di cantare questa canzone la mia banda suona rock che è di perfetto bravo io non lo sapevo quindi e di conseguenza lascio a voi il tono perché voi dovrete intonare questa bellissima canzone vai ragazzi stupiteci la mia banda suona rock la mia banda suona rock è su hai fatto che io mi fa something day si capisce a me non è più 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 per maniera no quanta storia ha toccato cambia faccia l'unione quando il traurismo è diventato un esistenza ci vedrete qui con le ballerine, con le ballerine, con i suoi giovani cantare, si prende la bambina, con la macchina portata, con la macchina portata, con la musica e la bandalla, è un rock, bambino, portate un po' da mio, con il fermato al bordo, perché non possiamo portare, con i suoi giovani, con i suoi giovani, con la macchina portata, è un po' si usa, con i suoi giovani, con leTS, con i suoi giovani, con i suoi giovani, con i suoi giovani, con i suoi giovani, � se getto a fiducia, con i suoi giovani, con i suoi giovani, con e la bambina, in un bel respiro, hai un po' da nessuno, anche la seconda parte, vai! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!